buona serata a tutti bentornati e benvenuti sul mio canale iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e lasciate un mi piace al video se sarà di vostro gradimento primo video di avvicinamento a quello che sarà il dream match di venerdì yannick sinner contro carlos alcaraz una partita che aspettavo da quando sono usciti i tabelloni del roland garoz da quando è uscito il main draw ho sempre pensato che sinner il suo obiettivo dovesse essere quello di arrivare in semifinale contro lo spagnolo proprio per andare a giocare un match fantastico una rivalità tra due giocatori che hanno la possibilità di scrivere pagine di storie di una epoca di una nuova epoca di tennis che si è già aperta con insomma il passaggio di testimoni di feder con nadal che ormai prossimo ritiro con diokovic che è stato detronizzato dal nostro yannick sinner sia yannick che alcaraz rappresentano proprio l'emblema di questo passaggio di consegne e sotto un certo punto di vista anche se magari con caratteristiche diverse però rivedo un po roger feder contro rafa nadal quindi ho veramente tanta tanta voglia di vedere questo match venerdì che probabilmente è in programma come prima semifinale purtroppo dico purtroppo perché per quando inizierà il match sarò al lavoro ma cercherò di esserci il prima possibile perché voglio andare in diretta a tutti i costi seguire con voi questa partita che che sento proprio tanto sento tanto perché la vedo come una finale anticipata sinceramente io credo che chi uscirà vincitore da questo incontro sarà poi il vincitore del roland garoz senza nulla togliere a casper rude o a zverev barra deminaur che si affronteranno questa sera per decretare ti andrà a affrontare proprio il norvegese nell'altra semifinale ritornando però a yannick sinner contro carlos alcaraz sarà il decimo incontro tra i due con al momento cinque vittorie per alcaraz quattro per yannick sinner ma il dato significativo è che c'è stato un solo incontro sulla terra rossa in quel di umago nella finale vinta da sinner ora non ricordo 2022 o 2021 comunque qualche anno fa ed è un dato significativo perché su così tanti incontri insomma pensare che solo uno sulla terra rossa terreno di caccia sicuramente di alcaraz favorito anche dai bookmakers e dai pronostici della vigilia è un sinner che diciamo per luogo comune un po è più avvezzo al veloce al cemento all'erba insomma non di sicuro le superfici quali la terra rossa però allo stesso tempo va anche detto che sinner deve ancora dimostrare molto ha vinto un solo titolo lì proprio umago contro alcaraz quindi questo diciamo precedente può anche portare bene perché scaramantico secondo me quest'anno sinner ha fatto ha fatto tutto quello che doveva fare sulla terra rossa perché in quel di monte carlo è andato fuori in semifinale contro zizi passa sappiamo tutti come sicuramente ha avuto qualche colpa anche jannic però probabilmente se quella palla che è uscita di tanto così fosse stata vista appunto fuori saremo qui a parlare di un sinner trionfatore nel mille di monte carlo e poi invece per quanto riguarda madrid sappiamo tutti com'è andata è venuto fuori questo infortunio all'anca e jannic ha dato forfè non perdendo neanche un match dopo aver battuto il rimonta karen kachanov prima di giocare la semifinale se non sbaglio contro giara gli asimo i quarti comunque insomma ha dato alzato bandiera bianca per poi saltare roma e arrivare a questo roland garos con molte incognite fino a pochi giorni prima non si sapeva se avrebbe partecipato o meno e poi è arrivata una conferma dietro l'altra perché è iniziato il torneo yubanks battuto in 3 set poi richard gaschè anche lui in 3 set dopo è stato il turno di koto un altro 3 set a 0 poi è arrivato muté l'ultimo francese rimasto in gara in quel degli ottavi di finale primo set lasciato da jannic con un primo set se vogliamo chiamarlo da horror in cui sinner è andato sotto di tre break ma è riuscito poi a cogliere le sfaccettature del giocatore francese e a disinnescarlo senza troppi patemi d'animo è andato a vincere poi per 3 set a 1 la contesa grigor dimitrov di sicuro l'avversario più ostico sulla carta e non solo di questi appena citati battuto agevolmente 3 set a 0 perché mi sono andato a rivedere per la terza volta gli highlights di questa partita e devo dire che sinner veramente salvo per il piccolo passaggio vuoto nel terzo set quando si è fatto breccare veramente è andato in scioltezza e non non è un sinner che ha giocato al 100 per cento io la vedo così quindi contro alcaraz che dire io vedo un 50 e 50 non vedo favorito sinner non vedo favorito alcaraz ho fatto anche un sondaggio sul mio canale sulla community a cui siamo quasi già a 200 voti la percentuale più o meno un 74 per cento a favore di sinner però ho letto anche dei commenti di tanti che hanno votato a favore di annick perché sperano in una sua vittoria da tifosi di del nostro azzurro però obiettivamente dicono che alcaraz può essere favorito io francamente devo essere sincero io mi sono già sbilanciato prima dell'inizio del rolanda rosso o meglio dopo il primo match contro yubanks dopo aver visto sinner dopo aver visto il primo riscontro fisico del nostro jannick e ho detto che sinner sarà il vincitore del rolanda rosso sarebbe un'impresa clamorosa però avevo anche detto ma ripeto non voglio passare per presuntuoso perché l'ho detto io lo dico è come diciamo se stessi parlando me stesso il ragionamento che avevo fatto era stato insomma essendo il numero due del mondo sinner è ora numero uno dal lunedì numero uno ha un percorso chiaramente che prevede un escalation di avversari e infatti così è stato quindi lui deve arrivare all'appuntamento che avevo cerchiato proprio di rosso che era la semifinale perché dalla da quella parte sarebbe uscito fuori probabilmente alcaraz così è stato oppure c'era zizi passo comunque insomma uno l'altro però me la sentivo sinceramente che anche alcaraz nonostante fosse partito anche lui con tutti i dubbi fisici del caso saltato roma insomma madrid è uscito contro rublev anche lui fisicamente rappresentavano incognita sarebbe stato il match il vero la vera partita di questo rolanda rosso e credo che sia la partita che un po tutti gli appassionati di tennis italiani spagnoli ma non solo aspettano perché sinner alcaraz è proprio l'emblema dell'epoca del tennis in cui viviamo quindi due giocatori con caratteristiche diverse alcaraz fa più della una battaglia diciamo quando scende in campo alcaraz proprio va in trincea giocatore molto fisico ricorda un po raffanada sotto certi punti di vista sia per diciamo una questione di carta d'identità e sia anche per insomma modo di stare in campo dall'altra parte abbiamo yannick sinner molto più freddo un iceman per quello che avevo fatto un po il parallelismo alcaraz federer anche se comunque scusate nadal federer anche se hanno un po di caratteristiche diverse però è anche un augurio che si vada a riproporre una rivalità come quella tra lo svizzero e lo spagnolo che ci ha accompagnati per più di un decennio e ci ha regalato sfide memorabili e comunque quelle tra sinner alcaraz ad oggi se andiamo a rivedere gli ultimi incontri sono state tutte sfide memorabili l'ultimo precedente il 2 a 1 vinto da alcaraz in quel di indian wells se non ricordo male è stata una grandissima partita ma ce ne sono state tantissime altre di queste 10 che voglio però dedicare un video a parte domani che è giornata di vigilia insomma voglio fare un po un po di video ecco su questo match perché c'è tanto da dire raggruppare tutto in un unico mega video penso che sia anche un po troppo dispersivo e non vorrei rischiare di perdermi qualcosa di importante da dire però voglio dire ci sono tutti i presupposti veramente per assistere a una battaglia sensazionale a una partita che potrebbe anche andare al quinto set così come finire anche 3-7 a 0 può succedere veramente di tutto può succedere di tutto ripeto io non vedo favorito alcaraz su sinner perché la testa penso che faccia la differenza e sinner a livello mentale è una spanna sopra ad alcaraz se possiamo dare atto ad alcaraz di essere un pelino sopra sinner sulla terra rossa a livello mentale sinner è una spanna sopra e credo che alla fine questo possa fare la differenza perché non stiamo parlando di due tennisti che sono su due piani totalmente differenti stiamo parlando di due tennisti che possono essere qui qui oppure qui insomma sullo stesso livello sulla stessa linea d'onda e sulla stessa lunghezza d'onda quindi veramente che bello che bello perché sarebbe stato ancora più bello dico la verità che fosse stata la finale questa però la vedo come una finale anticipata chiaro è che c'è anche da dire questo dopo chiudo il video che bisogna stare molto attenti perché io dico che è una finale anticipata però allo stesso tempo magari immaginiamo una battaglia il quinto set che possa vincersi alcaraz o sinner che magari fisicamente possono avere ancora qualche piccolissimo postumo dei loro infortuni magari il vincitore ne esce massacrato dal punto di vista fisico dall'altra parte arriva in finale rudos vero o magari deminaur vedremo questa sera anche se dubito e magari c'è c'è uno di loro che va a fare il colpaccio quindi ecco mai dare niente per scontato sicuramente sei quattro finali semifinalisti saranno tanto abbiamo sinner alcaraz rud se sarà zverev ma anche se sarà deminaur tutti e quattro saranno dei degni vincitori augurandoci che sia yannick sinner comunque detto questo ci diamo appuntamento a domani per un video in cui andremo un po ad analizzare i precedenti dei loro incontri ci soffermeremo un po di più sulle loro caratteristiche proprio tecniche sul loro modo di stare in campo le sensazioni della vigilia commenteremo l'altra semifinale l'altra semifinale che si andrà a giocare tra rud e zverev insomma c'è tanto da dire tanto anche da sognare certo è che sinner ha fatto la storia siamo alla vigilia all'antivigilia della semifinale della rolanda rossa abbiamo il nostro yannick sinner contro alcaraz per andare a vincere il secondo slam dell'anno quindi veramente meglio di così veramente non poteva andare detto questo io vi auguro una buona serata ci vediamo domani per un video di aggiornamento su rolanda rossa vedremo penso che porterò anche un video tema calcio se non domani dopo domani quindi rimanete sintonizzati ribadisco che ci sarà la diretta del match contro alcaraz e mi auguro anche la super diretta di domenica per la finale buona serata a tutti iscrivetevi lasciate un mi piace